E allora buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti. Iscrivetevi a questo canale se non siete già iscritti, seguitemi sui social, seguite violaprice.com che vi dà info, notizie, aggiornamenti e novità sulla Fiorentina. Dicevo iscrivetevi, seguite perché continuiamo a monitorare la situazione dell'allenato Rato Viola, di quel che succede, direi di stare su questo tema, su questo tema caldo che è importante, di altre squadre, altre situazioni, non sta succedendo un cazzo, quindi stiamo su questo tema qui, poi stasera ci guardiamo Inghilterra-Scozia e poi magari nel weekend facciamo uscire qualche cazzo a mercato. Ma intanto dicevo, concentriamoci sulla situazione dell'allenato Rato Viola perché sono ore calde, avrete visto che è saltato, sembra definitivamente gattuso il Tottenham, per le proteste dei tifosi del Tottenham, poveretti io anche li posso capire, insomma essere passati da Conte, Fonseca, adesso Gattuso, insomma Gattuso al Tottenham veramente non si poteva sentire, in ogni caso è Godopoli, penso, vi ripeto, alle proteste dei tifosi del Tottenham, penso a come era stata accolta la notizia di Gattuso a Firenze qualche tempo fa, come se avessimo preso veramente Klopp a livello di gasazione e di fomento, diciamo è abbastanza Godopoli la situazione attuale, visto anche il decorso degli eventi, ma io vi ripeto, non c'è, leggo anche articoli in giro, contrizione, scontentezza, ragazzi a mio avviso non c'è di che essere scontenti, se analizziamo il punto di vista tecnico e anche come sono andate le vicende, assolutamente, io dico non un Continental Breakfast, due Continental Breakfast, perché per quel che riguarda l'addio a Gattuso non mi ha mai entusiasmato, vi ripeto, io penso che con Firenze e la Fiorentina, il modo di far calcio della Fiorentina, la storia della Fiorentina a Gattuso ci azzecchi zero, e non è voglio dire un insulto per forza, è assolutamente, è una constatazione, ci sono dei profili di allenatore che per ogni squadra sono più o meno adatti, più o meno confacenti, secondo me, quelle che sono le caratteristiche delle varie squadre, Gattuso da questo punto di vista non mi ha mai convinto e ve lo dico dal giorno zero. Poi certo, la figura non è delle migliori, era una vicenda che sicuramente si poteva gestire meglio, se pensiamo agli esordi di sta vicenda, a come era stato presentato, a quella che doveva essere la scelta da difendere a spada tratta, per carità, ma vi ripeto, poi venendo al nocciolo della questione io non è che mi vado a contrire o a piangere in spiaggia di notte perché Gattuso non è più l'allenatore della Fiorentina. Certo, bisogna vedere però quale sarà il futuro, quale sarà il sostituto. Allora io parto da una vicenda, da un nome, che è quello di Fonseca. Ragazzi, Fonseca per me sarebbe l'ideale, anche qui mi ripeto da settimane, se non da mesi, Fonseca sarebbe perfetto per la Fiorentina. Profilo anche internazionale, conosce la Serie A, è un allenatore con idee calcistiche, a livello di gioco, di idee, di aplomb, di incastrabilità, si sposerebbe perfettamente con la Fiorentina. È anche un allenatore che porta un sorriso, che porta serenità, che veramente avrebbe tutto Fonseca. Avrebbe tutto l'ideale, io vi dico, sarei talmente contento per l'arrivo di Fonseca, per la scelta di Fonseca veramente, che questi ultimi giorni qua, ultima settimana di Gattuso, Marci indietro, Casini, incompressioni sul calciomercato, le ripongo in un baule e le consegno veramente alla storia. Me ne dimentico totalmente se arriva Fonseca, ce ne dimentichiamo totalmente, perché sarebbe veramente una scelta ideale Fonseca alla Fiorentina, proprio una cosa da reset. Facciamo finta che non sia successo niente, facciamo finta che Fonseca sia arrivato da un mese, oppure che si sia iniziato adesso a scegliere l'allenatore nuovo della Fiorentina, si partirebbe con Fonseca e sarebbe il top. Fonseca per la Fiorentina sarebbe il top. E mi viene anche da dire, nell'estate in cui c'erano liberi Sarri, c'era libero Spalletti, si è rivelato poi essere libero pure Fonseca, siamo andati a perdere tempo per certi versi con sta vicenda di Gattuso, che è quello poi il rimpianto maggiore, vi ripeto, non il fatto che sia andato via, ma il fatto di essere andati a prendere lui come prima scelta. E quella è la cosa purtroppo che ti resta e che ti viene da dire, caspita, a saperlo prima, come per certi versi si poteva sapere, magari le cose sarebbero andate diversamente. Poi altri nomi. Allora, io faccio questi nomi qua, che sono quelli che sono stati rilanciati dai media più mainstream. Vi invito a seguirmi su Twitter e non solo a seguirmi su Twitter, ma anche a votare il sondaggio che ho lasciato su Twitter, che è quello relativo all'allenatore, che voi scegliereste tra questi quattro. Avete tempo fino a domani per votare, fatelo su Twitter alle Cat91, vediamo come va. Sono questi i quattro allenatori che poi i media mainstream rilanciano. Non sono escluse sorprese, perché magari uno di questi non viene, salta, alternative e via dicendo. Fonseca, vi ho detto, vi ripeto, sarebbe semplicemente la scelta migliore, ma non da oggi. Era per me la scelta migliore da quando Sarri e Spalletti si sono accasati, da quando Sarri e Spalletti si sono accasati, da quando si è deciso che non erano arrivabili, sebbene poi uno vede le cifre e le situazioni, due domande se le fa. Però diciamo, stante la situazione, Fonseca era e sarebbe stato l'ideale per la Fiorentina. Quindi dovesse venire io sarei solamente che contento, sarebbe veramente una scelta che sentirei come giusta mia e che mi fomenterebbe molto. Per quel che riguarda gli altri, vi ripeto, di italiano ho parlato quest'oggi. Vi invito a vedere il video, quindi in questione non ho niente da aggiungere, se non che sì, concordo con molti di voi, ho visto nei commenti. E vi ringrazio perché siete sempre in tanti. Qualcuno ha scritto, non mi piacerebbero le modalità di addio dallo Spezia. In effetti avete ragione, nel senso che sarebbe anche un po' una cosa, non dico incidentata per carità, però comunque diciamo il resto della mia. Avrebbe sicuramente delle positività, sicuramente sarebbe migliore di altri, sicuramente anche lui dal punto di vista tecnico, tattico, sarebbe un upgrade rispetto a Gattuso. Quindi il resto della mia idea neutra, diciamo, su italiano. Se volete approfondire guardate il video che ho fatto stamattina. L'altra ipotesi è quella di Ranieri. Ma guardate, Ranieri sarebbe un qualcosa che nel caso, ovviamente avendo chiare le gerarchie, che io metto al primo posto Fonseca, assolutamente Fonseca è il mio prescelto da mo'. Però, avendo chiare le gerarchie, Ranieri non mi dispiacerebbe perché intanto sarei attirato da un 4-4-2 in salsa viola. E per certi versi era anche un'idea che mi aveva fatto citare Pirlo nel video di ieri. Un 4-4-2 in stile brodo, caldo, per l'anima, dopo questi trambusti, un bel Ranierismo di serenità e concretezza, un sorriso paterno, anche nonnizio, diciamo, in quel di Firenze, un bel brodino caldo Ranieriano, non mi dispiacerebbe, devo dirvi la verità. Certo, sarebbe un'idea che con il futuro, diciamo, avrebbe poco a che vedere, però per il presente, per la situazione in cui si è, come conservatorismo in brodo, così, con un sorriso paterno, di serenità, ma non mi dispiacerebbe, con quel paternale ritorno ad un 4-4-2, insomma, a cui tutti vogliamo bene alla fine, no? Quindi, non sarebbe male Ranieri, sicuramente non sarebbe male. Garzia, mi spiace, ragazzi, io c'ho un'idiosincrasia per Rudy Garzia. Poi, magari, per carità, arriverebbe, ci sarebbero delle cose su cui magari si potrebbe concordare, potrebbe fare bene, però io, Garzia, no. È come con Gattuso, anche voi avrete sicuramente delle personalità calcistiche, delle figure che è proprio a pelle, diciamo, per quelli che sono un po' i trascorsi, per quello che è l'inconscio, non ti attirano, non le vorresti, non ti piacciono, non fanno per te. Ecco, io questa cosa ce l'ho con Garzia, come ce l'avevo con Gattuso, ce l'ho anche con Garzia, un allenatore che non mi... A parte che, per esempio, l'ultimo anno, Lione, vi ripeto, è stato fuori dall'Europa dopo vent'anni, quindi non è che è reduce neanche lui da un'esperienza, almeno l'ultimo anno, di chissà che livello, no? Quindi, proprio a livello anche empatico, a livello emozionale, non mi attirerebbe. E quindi, questo è il mio parere sui quattro principali nomi, vi ripeto, Fonseca, Gasazione, Scelta ideale, Fomento, Affetto, Amore, e tutto quello che di bello potete metterci, sarebbe veramente la scelta perfetta, secondo me. Lo era già al tempo, lo sarebbe ancora oggi, e da par mia, per quella che è la mia vision, veramente io sarei disposto a prendere l'ultima settimana, metterla in un cassettino e come non fosse mai successa, se arriva Fonseca. Italiano neutro, diciamo neutro con punte di positività, mettiamo così, neutro con punte di positività, Ranieri, un caldo abbraccio paterno con qualche motivo di sorriso, García per piacere no, García per piacere no, García per piacere personale no. Ditemi cosa ne pensate, un caro saluto.